iscriviti perchè è gratis e potrai continuare a seguire i miei video oggi cioè la settimana qua sono andati giù il temperatura praticamente impicchiata perchè guardate sta nemicando non so se si vede però fidatevi che qualche fiocco c'è sarà una bella settimana comunque anche se non andrò a pescare pieno proprio perché fa troppo freddo comunque ieri ho finito di evitare tutti i video e devo ancora finire alcune clip per il partner e comunque vabbè fra poco mi dovrebbe chiamare non dico ancora il nome perchè lo so se posso dirlo però per la collaborazione e più avanti nel tempo cioè magari tra qualche ora o tra qualche giorno vi dirò con chi e vi dirò tutto e mi sono dimenticato di dirvi nello scorso video perché avevo messo da poco questo che praticamente siccome non ho ancora il bottone per le donazioni chi vuole se volete potete donarmi trovate l'iman della mia poste pay sotto in descrizione quindi se qualcuno volesse donarmi potete farlo da lì ecco quindi chi lo farà grazie chi vuole ovviamente e perchè anche il super grazie c'è dai mille iscritti in su e sarò sia mille iscritti sia 4.000 euro di visitazione ma ci arriveremo ci arrivano presto però poi ci arriveremo a mille iscritti spero quindi se non sei iscritto iscritti e niente insomma voglio anche dire questa cosa qua adesso qui sto un po' vedendo un po' di cose adesso metterò a canada lago nel fodero siccome il fiume non penso di andarci febbraio non lo so per momento no e perché se non lo so ancora non ho programmato che di febbraio comunque siamo partiti bene direi abbastanza un cappato su scate ecco diciamo circa perché poi alla fine il 31 abbiamo fatto oh avevo preso un bischio però comunque questo ok quindi niente se volete donarmi potete farlo nel link c'è il link con l'iban che trovate sotto e niente voglio dire questa cosa qua e poi quando ci vediamo il super grazie poi quello vabbè con i miei iscritti e niente neve guardate tra l'altro mi è arrivato un pacco con quattro loop tire che praticamente sono per creare l'asola per essere più veloce soprattutto con i fili piccoli che creare le asole nella collezione del 12 per me che non è che c'è tanto bene anche se c'è gli occhiali infatti è piuttosto difficile però guardate oggi neve oggi proprio neve è proprio nevicato qualche centimetro infatti si vede sui tetti anche dagli alberi e niente quindi insomma sia delle temperature come come dicevo bene e c'è davvero così quindi nevica qua non lo so se da voi è nevicato oggi è giovedì quindi c'è lo stai tenendo su qua se giovedì è nevicato ecco anche da voi non lo so però comunque per la pesca ormai se c'è una pausa vediamo un paio le temperature e poi si vede un paio ed eccoli qua uno un po' più piccolo e uno almeno a quanto sono un po' più grosso quindi questo qua è proprio da fare le asole membri questo qua fa sia da asola che lo porterò in pesca sia da slavatore perché c'è l'intaglio ecco quindi questi qua ci stanno ve li consiglio adesso poi farò anche un video tutorial più molto più avanti su come usarli ecco prendevo imparare anche io poi piano piano faccio vedere allora praticamente ho adorato questi picchetti qua e quindi sono proprio questi e potrebbe anche andare bene quindi adesso prendo anche l'altro e colgo ancora di 3 metri così almeno sono posti un po' migliori però faccio farli una specie di punta per andare un po' meglio giù nel terreno però comunque sono prestato praticamente ho i fatti e posso anche far vedere ora praticamente li ho praticamente messo quella cosa di spugna gomma tipo e con un po' di scotch poi l'ho messo intorno l'unica cosa è la parte finale che è un po' difficile da fare perché devo fare un po' più appuntito per pensare nel terreno adesso li provo quindi li ho rifatti e sono 3 metri precisi eccoli qui i due picchetti uno e due adesso li provo perfettati sono alla doc quasi però guarda qua l'ho messo il metodo lì ho fatto due o dieci giri che sono 76 metri comunque e ci stanno dai guarda tac il clip quindi ormai fa ancora piuttosto freddo l'ultimo prossimo metto ancora a 0-7 gradi andiamo qua da me e tu chiedo di scritta qua sotto iscriviti per tenerti sempre aggiornato settimana prossima, cioè la settimana che oggi è il 21 dal 23 al 29 stati connessi soprattutto perché avrei perdito la settimana dopo però su Instagram, seguite in pisco.ita perché lì metterò con chi collaborerò perché stiamo al prossimo arrivando sicuramente le pasture è una marca di pasture io vi dico che fa anche carp fishing cioè soprattutto carp fishing però poi faranno anche delle pasture da feeder e poi scoprirete tutto quindi iscriviti al canale perché devi stare aggirato sui video e soprattutto su tutte le novità al prossimo video, ciao! 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 ciao!